Io non lo volevo fare un altro video, non c'avevo proprio voglia di venirevi a spiegare di nuovo che c'è l'acqua in mare. Tema, vaccino anti-influenzale 2020-2021. Non è obbligatorio, non è scritto da nessuna parte e vi spiego perché. Non possono farlo perché il Tribunale di Norimberga ha stabilito che somministrare farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l'umanità. La Convenzione di Oviedo ha previsto che un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. E infine l'articolo 32 della Costituzione italiana dice Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Ora io capisco che tutti i mass media, la Repubblica, la Stampa, il Corriere della Serva, il Messaggero, la Rai, Mediaset e tutti i web, i siti web. Tutti quanti possono fare qualunque tipo di pressione perché questo è stabilito dall'ultima votazione che questi criminali pezzi di merda hanno fatto alla Camera per incentivare la popolazione a farsi vaccinare per l'influenza, d'accordo? Ma non è obbligatorio! Non so più se mi devo incazzare con il mainstream ufficiale o anche con i cosiddetti canali eretici. Quindi state attenti canali di controinformazione a che cosa fate da cassa di risonanza perché si ottiene l'effetto contrario con questa popolazione. Se voi con i vostri video continuate a ripetere Scandalo! È obbligatorio! È obbligatorio! Non! Otterrete una ribellione! Otterrete le file davanti alle asle, davanti alle farmacie e dal medico di famiglia la gente correrà a vaccinarsi! Abbiamo il dovere di non vanificare la morte di milioni di persone nei lager. Sono morti per i diritti umani! E allora, come canali indipendenti, noi dobbiamo veicolare la possibilità di dire no! Ripeto, stampatevelo bene nella testa! Tribunale di Norimberga Non si può somministrare farmaci contro la volontà del soggetto perché è un crimine contro l'umanità. Convenzione di Oviedo Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. E infine, articolo 32 della Costituzione italiana Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Infine, aggiungo una piccola mia considerazione Un mio piccolo dubbio Ho il dubbio che presi dalla foga di essere canali di controinformazione ci si faccia un po' prendere dal proprio ego avere visualizzazioni avere like diventare famosi mi raccomando eh guardate che l'ego non porta qualcosa di buono per tutti d'accordo? Non è obbligatorio farsi vaccinare contro l'influenza quest'anno 2020-2021 ripeto tre leggi ci sono tre leggi scritte e se avete un po' di pazienza e voglia di informarvi veramente e vi andate a prendere i documenti della camera leggerete scritto nero su bianco che no se non c'è il consenso della persona no che non può essere inoculato il vaccino nessun vaccino vaccino la sua e si è un po' di pazienza che non è un po' di pazienza che non è un po' di pazienza Grazie a tutti.